Andiamo a lavoro, Tuss. Pronti a partire? Andiamo. Tariq dice che dovremmo essere tranquilli a Mangia War, ma anche i talebani si spostano sulle colline. La missione è andare all'avamposto Clementine, il percorso nel GPS. Sembra che dovremmo affrontare un terreno bizzarro, quindi occhi aperti. Se c'è qualcosa di strano, voglio che me lo diciate. Roger. Roger. Domande, signori? Ok, diamoci dentro. Vegas e io ci divideremo a sud del Wadden. Roger, ci vediamo dall'altra parte. Buona fortuna. Roger, stai con me? Andiamo a sinistra. Il Wadden ci coprirà per un po', stateci dentro. velocità costante, mantenere la distanza. Aspetta tu, camion, rallenta, vai piano. Ok, facciamo piano. luci spazio. Luce spazio. Il Wadden ci spazio. Il Wadden ci sta a fare. Il Wadden ci sta a fare. Il Wadden ci sta a fare. Siamo quasi al villaggio. Andiamoci piano, datti. Ricevuto. Luce, siamo vicini al controllo. Silenzio assoluto. Ok, facciamo piano. Luce ispette. Ci siamo. Nascondiamo gli ATV. Andiamo a piedi. Panther, siamo a piedi. Procediamo verso il lato nord del villaggio per verificare la situazione. Roger, siamo fuori dal campo di papaveri. Quando avete una visuale sul complesso, copriteci. Lo attraverseremo verso il muro. Veloci, quei camion hanno fretta. Luce, Panther, Vegas. Vicino al muro del complesso. Ci muoviamo. C'è un bastardo nella torre, Dusty. Duce, tieni d'occhio alla torre. Non abbiamo tutta la notte. Becchiamoli. Hunter, voi abbracciate liberi. Roger, ci muoviamo? D. Cerchiamo di entrare nel complesso. Seguimi. Libero. D. Febriero. Come? Due guardie, scegli la tua. Io prenderò l'altra. Libero. Doppia D. Questo posto è pieno di talebani. Restate in silenzio. Ricevuto, Panther. Ci muoviamo nell'edificio. Andiamo di sopra. Cercateci in cima. Luce, ripunisci l'edificio a sinistra. Io vado a destra. D. Tieni sott'occhio al cortile. Vai alla finestra. Attento, hanno un uomo nella torre. Eliminalo in fretta e in silenzio. D. Un altro bersaglio. Guarda sul tetto alla tua destra. D. Un altro bersaglio. D. Un altro bersaglio. D'un altro bersaglio. Basti, compri la porta Roger Bingo, sembra utile Davvero? Com'è il tuo russo? Ah, riuscirei Se queste sono postazioni nemiche avremo molto da fare Dimmi, Panther, la situazione è cambiata Sembra che il nemico sia sulle montagne e sono in tanti Roger, senti in flag, vuole mandare prima i ranger Non è consigliabile, le cose sono cambiate Inoltre, Task Force Rammel arriverà stasera Il generale a 15.000 km di distanza vuole sapermi più di noi Non vuole gli afghani, vuole i nostri uomini in zona Dovrebbe dare retta agli uomini sul posto Eh, trovati cattivi, uccidetti cattivi, non funziona bene, al contrario Rallentiamolo Roger, farò il possibile Cosa abbiamo? Altri cattivi da far fuori, i camion ne erano pieni Siamo qui per questo, no? Giusto, muoviamoci, prendete quella radio Roger Siamo liberi Ah sì, Duce, non fermatevi Dovete attraversare Major War, aspettatevi compagnia Roger Vegas, prendiamo la strada alta Forza di esso, dove è l'uscita? Forza di esso, dove l'uscita? Fortuna è che non era chiusa. Corvattere da sinistra. 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 Libero. Segno il camion. Coprimi. Panther. Un camion segnato e un cattivo morto. Per ora. Roger Tassi, buona fortuna. Altrettanto. Forza D. Uno in meno, ancora due. Non c'è tempo per nascondere i corpi. Muoviamoci in fretta e ce ne andremo prima che li scoprano. Stai nell'ombra. Possiamo farcela in silenzio. Non devono sapere che siamo qui. Ok, via libera. A sinistra. Ci sono due bersagli. Tu prendi ne uno. Io prendo l'altro. Nemico a terra. Attenziamo. Gusto, tono, piatta dall'alto. Aspetta. Aspetta. Fermo di. E compagnia. Fane fuori uno, io penso all'altro. Bersaglia dentro. Ben fatto. Ora fuori da...